La notizia è di pochi minuti fa e il titolo è emblematico, Andrea Dovizioso non rinnoverà con la Ducati e dal 2021 non sarà più un pilota della scuderia di Borgo Panigale per quanto riguarda la categoria MotoGP del Moto Mondiale Notizia veramente di pochi istanti fa, qui prendiamo l'articolo di oasport.it per commentare insieme quella che è una notizia clamorosa e incredibile Dunque è un video un po' a caldo, un video in realtà extra rispetto alla programmazione abituale che riprenderà domani con il Racing Podcast sulla Formula 1 Ma parliamo di Andrea Dovizioso, voi sapete che io sono un gran tifoto della Ducati e sono un pochino perplesso anche se onestamente da un certo punto di vista è una scelta condivisibile O quantomeno comprensibile per quanto riguarda il pilota forlibese, Andrea Dovizioso è un pilota di 34 anni che appunto ha sviluppato la moto In questi anni portandola insieme anche al lavoro di Dallinia a tre volte un secondo posto dietro a quel Marquez imbattibile degli scorsi anni Un pilota che si è sempre distinto non per essere aggressivo ma un pilota più ragionatore, un pilota che corre in modo composto, un pilota che rischia poco ma quando rischia cerca di fare le cose al momento giusto Un pilota che probabilmente non passerà per il grande carisma come altri piloti del Circus ma passa per essere un pilota calcolatore, un pilota che ragiona molto lucido nelle sue analisi Tutti questi fattori però hanno portato a una separazione che è stata ufficializzata come vediamo dall'articolo di oasport.it al termine delle terze libere del Gran Premio d'Austria 2020 E' una notizia che si correrà domenica per quanto riguarda la quarta tappa del moto mondiale Insomma è una notizia che da un certo punto di vista si poteva comprendere, da un certo punto di vista a me lascia perplesso e secondo me a lungo andare questa è l'ennesima prova che in Ducati abbiano una gestione a dir poco approssimativa della gestione dei piloti Ed effettivamente Andrea Dovizioso è l'ennesimo caso, l'ennesima discussione, non è la prima volta che tra Ducati e il pilota forlivese ci sono degli screzzi o quantomeno dei tiri e molla, rinnova, non rinnova Ed è sempre stato messo in discussione durante questi anni della Ducati, a volte in maniera corretta, il più delle volte purtroppo in maniera secondo me incoerente e incorretta La dichiarazione è arrivata ufficialmente dal manager di Dovizioso, Simone Battistella, che appunto ha comunicato ufficialmente l'intenzione di Dovizioso di non rinnovare con la Ducati Questo non significa che il pilota forlivese si ritirerà dal moto mondiale ma valuterà eventualmente altre proposte Ed è una scelta, come dicevo, mentre torniamo sull'immagine di Andrea Dovizioso, che da un certo punto di vista è comprensibile ma dal punto di vista del pilota Perché un pilota che ha fatto quello che ha fatto, ha vinto 14 gare se non sbaglio con la Ducati negli ultimi anni Ha portato la moto a un livello superiore rispetto a quelli che potevano essere i valori della vigilia Ha dimostrato di essere un pilota affezionato al marchio, affezionato a questa moto e in grado di poterla sviluppare da un certo punto di vista I risultati parlano chiaro, Dovizioso seppur non sia, dicevo, un pilota aggressivo, un pilota carismatico E comunque uno dei piloti più vincenti del moto mondiale, che se ne dica quantomeno per la nazione Italia Che ricordo conta sul primo posto Valentino Rossi e poi al terzo Andrea Dovizioso È un pilota che però, nonostante il valore, nonostante quello che ha fatto, ha sempre ricevuto picche da Ducati In particolar modo quando Dallinia è arrivato alla corte della casa bolognese E questo rapporto con Dallinia, che non è mai stato idilliaco per usare un eufemismo, è evidentemente arrivato alla fine Un Andrea Dovizioso è sempre stato messo in discussione, soprattutto quando gli è arrivato Orghe Lorenzo Dovizioso per lì è stato bravo, ha reagito e ha dimostrato di essere più concreto e più forte quantomeno del primo Orghe Lorenzo Quello del primo anno in Ducati Il secondo Orghe Lorenzo era un pilota onestamente alla pari con il Dovizioso di quel momento Che appunto si classificò secondo nel mondiale quando Lorenzo era in squadra, quindi parliamo del 2018 Il problema è che mettere sempre in discussione un pilota che comunque ti ha portato in alto e ha vinto Onestamente mi lascia altremodo perplesso Va bene che io ho un amore in realtà sportivo per Andrea Dovizioso e un pilota come lui Lo prediligo rispetto magari a un pilota un po' più aggressivo e magari un po' più carismatico Però come dicevo all'inizio è ancora una volta un errore della Ducati dal mio punto di vista Perché ancora una volta la casa di Borgo Panigale ha dimostrato di sbagliare lo sbagliabile dal punto di vista della gestione dei piloti Per esempio prendere Lorenzo a quelle cifre fu un errore In particolar modo perché creando un clima dove Dovizioso doveva essere palesemente la seconda guida E Lorenzo l'hanno strapagato per fare risultati orrendi su una moto complicatissima come la Ducati E sappiamo benissimo che oltre Stoner di fatto non ci sono piloti che sanno far girare questo Ducati Dovizioso ci ha provato ma non ci è riuscito completamente Però comunque è un pilota migliore rispetto a tanti altri che sono passati Anche quando c'erano Dovizioso e Iannone sono sempre stati lì per tenerli sulla graticola Anzi hanno creato diciamo una conflittualità interna tra Dovizioso e Iannone Per scannarsi alla morte per decidere sui risultati chi sarebbe rimasto Poi hanno scaricato Iannone in favore di Dovizioso La stessa cosa è successa adesso perché la Ducati ha preso Jack Miller per l'anno prossimo Scaricando subito Danilo Petrucci che effettivamente ha fatto una stagione disastrosa Però diciamolo togliendolo fuori dal progetto E Dovizioso ancora una volta era sulla graticola Rinnovo o non rinnovo, mi ritiro o non mi ritiro Insomma tante voti che leggiamolo su piattaforma di Vese Che probabilmente con uno stato psicologico abbastanza compromesso E lo posso capire visto che non è felicissimo secondo me come situazione Star sempre sulla graticola nonostante tu comunque sia un pilota più piazzato che vincente Ma comunque le gare le hai vinte e hai un palmaresso di tutto il rispetto Ducati fa una scelta evidentemente per il futuro Il problema è che non mi risulta che Miller e Bagnaia Qualora arrivasse Bagnaia nella Ducati ufficiale Siano piloti così costanti come magari Dovizioso In un mondiale dove di solito la costanza serve sbarazzarsi di un pilota così Che comunque ha delle qualità onestamente mi lascia oltremodo perplesso La Ducati non è nuova a queste gestioni E secondo me alla lunga potrebbe pagare una gestione sciagurata come questo tipo Sono tanti i piloti che sono tra virgolette bruciati in Ducati E che la Ducati ha scaricato senza troppo preavviso E con un rapporto abbastanza gelido È successo con Dovizioso in questo momento È successo con Petrucci, con Iannone Insomma hanno strafatto per Orghe Lorenzo E i risultati si sono visti Cioè i risultati più o meno fallimentari E le tre vittorie del 2018 onestamente non salvano quelle due stagioni fallimentari Peccato perché secondo me Dovizioso un altro anno se lo sarebbe meritato Certo è un pilota che va per le 35 primavere La linea giovane dal punto di vista aziendale È sicuramente interessante ma per il futuro La Ducati è sempre stata una scuderia che ha voluto vincere il mondiale MotoGP Voleva tornare a vincerlo dopo Casey Stoner E di certo non è trattando così i suoi piloti che tornerà a vincere un mondiale E mi dispiace detto da un tifoso appunto della Ducati Abbastanza convinto peraltro Detto questo io spero che Dovizioso possa rimanere nel Moto Mondiale In quanto è un pilota che per talento ci può stare tranquillamente Ducati ha un voto zero per quanto mi riguarda per la gestione dei piloti Perché non è possibile che tutte le altre squadre delirano un progetto fin dall'inizio E la Ducati è l'unica che rimane un pochino così sul filo E alla fine bene o male per mancanza di alternative Si è sempre ritrovata a rinnovare un pilota che evidentemente non ha goduto più di tanto Io capisco la scelta di Dovizioso di andarsene via dalla Ducati Per i motivi psicologici che ho detto prima Perché ripeto non è divertente avere sempre la graticola, la spada di Damocle dietro Detto questo io spero che Dovizioso possa togliersi delle soddisfazioni importanti Per quanto riguarda questo campionato del mondo Un campionato del mondo che correrà in Austria Alle prossime due gare del MotoGP Dove effettivamente Ducati e KTM sono le favorite evidentemente per vincere questa gara E se vincerà Dovizioso sarò oltremodo contento Perché dimostrerà ancora una volta di essere un pilota Sì sui 35 anni ma comunque ancora una volta talentuoso Che potrebbe assolutamente dire la sua in MotoGP Fatemi sapere cosa ne è passato comunque di questa decisione di Ducati Di lasciare a piedi Dovizioso per il 2021 Io sono abbastanza perplesso Io Dovizioso l'avrei tenuto soprattutto perché In coppia con uno giovane ci sta un pilota di esperienza E spesso i giovani secondo me non portano da nessuna parte Bisogna vedere se i giovani sono costanti è un conto Ma visti i nomi che si fanno secondo me per l'immediato non è una gran scelta Fatto sta spero di essere smentito Ma Dovizioso onestamente io l'avrei tenuto A detto che sono tifoso della Ducati E simpatizzante oltremodo per Dovizioso La programmazione del canale sportivo dunque tornerà a essere normale Domenica quindi domani ore 19 Post gara del Campionato di Formula 1 Spagna Barcellona e lunedì post gara della MotoGP Campionato di Austria Saluto da parte dei miei tutorial dunque ci vediamo presto a un prossimo video